Questa cucciola deliziosa l'abbiamo chiamata Rosa, è dolcissima, taglia medio piccola come la mamma, guardate la mamma, guardate peserà 11-12 kg quella cagnolina, e Rosa, Rosa sembra anche lei molto piccina, che tesoro, guardate piccola piccola Rosa, due mesi e mezzo, troviamole una famiglia, non lasciamo le cagnolini, un sorrino. Sapete che storia hanno questi cuccioli? Sono sei in tutto in questo box, abbiamo due mamme e sei cuccioli, una parte appartenevano ad una mamma e una parte all'altra mamma, vivevano in un posto di campagna isolato, potevano rimanerci tranquillamente, noi andavamo ad accudirli, se non qualcuno, a nostra insaputa, di nascosto, è andato, ha preso un'intera cucciolata ed è andata ad abbonarla a 4 km da casa. Pensate, pioveva, i cuccioli erano piccoli di 30 giorni, ranicchiati sotto l'acqua, meno male che una segnalazione ce li ha fatti ritrovare, però non li abbiamo più potuti riportare lì ovviamente, perché erano in pericolo. E così, questi tesorini, Rosa e i fratellini, sono entrati in canile e adesso sono pronti per l'adozione, hanno un vaccino. Guardate che amore che sono, guardate Rosa, che bella questa cucciola, adottatela, è un tesoro maglielino. Ciao Rosa, buona fortuna. Ciao!